Lo sa, mi lo si? Io? E la giornata tu sei? La giornata tu sarebbe io, però sei che è casato. Sei di Torre? Abiti a Torre? Abiti a Torre? Si. Ah, perciò mi chiami Linarella, la conosci? Linarella, la compagno a me. Perciò mi chiami Linarella, mi li fa fare direttamente con te. Eh, ti ricordi che lavoro, un capitano, la facevo un po' di poche. E sei di casare di Becker? Eh. Eh, bravo, lo so. E ti piace che una canzone che ha fatto? Voglio fare un bumbù. Voglio fare una canzone bumbù. E ti dico una bella canzone. Ok. Un bacio a tutti quei. Io sono convinto che tu, se vai di questo passo, crescerei molto comunque. Hai capito? No, non mi piace. Sì. Ma lo posso fare. Eh, perché andai a fare se lo posso fare? Quanto è il pomeriggio. Sì. Devi andare a prendere un caffè al tuo capitano. Stai a tuo capitano tu? Eh. Mi ha per prendere. Non ti preoccupare. Se posso ti vengo a trovare. Lanci un bacio a Peppino a Linarell. Lanci un bacio a Peppino a Linarell. I figli a Linarelli. I figli a Linarelli. Oh, carri capito. Ah, sei tu che la ti dice. Sei bravo. È Peppino che la ti dice. Bravo. Stai a visire al mio capitano. Grazie. Un bacio. È bravissima. È un buon oggio. Ciao. Ciao. Ciao a Platano. È bravo. Sono i compagni miei. Ti accaderemo. Bravo. Bravo. Sono persone che ti capiscono. Eh. Ma se ne ho unito con la peggiore. Ha già capito che a te un po' non la mente. Se avvistassero a me, non ti stacciono a me. E poi c'è la storia tu. Eh. Se vede. Allora spie. Aspettate. Allora la storia tu che ti stai già. Ah, storia mia. Quando ci ho sofferto il sapore sul Dio. Sono cresciuto mano a mano ai figli miei. E con loro manco di... Grazie. Ah, storia mia. M'ha imparato a raccontarmi il bucì. Sì. Perché la povera e le mamma miei. Steva notte e giornate c'è nero per me. Mi ha cantato con il cuore questa canzone. Ci ha fatto sentire che tu ci esista ancora. Non so la voglia di toccare. Perché non sa ancora. Che bello a vivere. Rosario ricordati quello che non si fa in un anno si può fare in un minuto. Hai capito? Io ti dico una cosa. Con tutto il cuore ti dico. Noi stasera sono su questo mando a passaporto. Comunque mi faccio contento. Che è giusto in diretta con te. E qual è il problema? Mi sono con me tutto qua. Io sono un uomo come tutti. E canzoni tu mi piace. Perché sono le canzoni come se fanno i gianni. Io se riesco a far stare bene una persona. Sono contentissimo. Il mio cuore gioisce. Hai capito? Vieni la piccola. Vieni la piccola. Vieni la piccola. Passiamo tu. Non ti preoccupare. Oh. Ma tengo a te. Non voglio niente. Giorami. Mirata a luce. Quanto non l'hanno scordata. Amo la tua semplicità. A chi dà già paragonata. Non c'è sta niente che potesse assomigliare. Il 25 di dicembre. Mi senti Rosario? Il 25-26. Potrei uscire una mia nuova canzone. Ho fatto il video con mia moglie Emma. E si chiama così. La voglio dedicare a tutti quei innamorati. Che veramente si amano. E senza quell'altra parte. Cioè non riesci a fare niente. Ti capis? E si chiama così questa canzone. C'è una parte di te. C'è una parte di te. Perché si chiama così. E se non mi senti solo in mezzo a me. Ma nemmeno tutte. Rosario? C'è una parte di te. E' grande. Perché si dì tu. Perché si dì tu mi fai felice. C'è una parte di te. L'ha mangiurato insieme a chi sta morto. Che sto l'hai detto tu. Puoi sempre insieme a chi. Rosario? Grazie. 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 Prossimamente. Rosaria. Hai capito? Hai capito. Ti mando un bacio forte forte. Non ti preoccupare. Io ti seguo. Tony. Tony mi fa una cortesia. Sì. Non ti preoccupare. Ti mando un bacio forte forte. Ci sei simpatica. Hai capito? Tony. Ti auguro. Ti auguro tutto il bene del mondo. A te. Vieni. Vieni capitano. Un bacio a Giuseppe. Un bacio a tutta la famiglia di capitano. Ciao. Ciao Rosaria. Buone feste. Ciao Giuseppe. Ciao. Ciao. Fratam. Ciao. Ciao a tutti.